L'elemento fondante è l'anniversario del decennale del sisma aquilano, tra l'altro abbiamo voluto ringraziarli per l'aiuto che al tempo le varie regioni o comuni diedero alla città dell'Aquila, all'intero Abruzzo. Oggi dimostriamo una regione che è in quota parte in piedi, ha voglia di stare ancora meglio in piedi, mostriamo le ferite del nostro capologo regionale ma anche le conquiste che abbiamo ottenuto e poi discuteremo anche di temi fondamentali come quelli delle autorità che si occupano della difesa dei diritti che lei ha ricordato. La cosa che ci preme particolarmente è il rapporto sulla legislazione che domani ci sarà con il Presidente della Camera, cioè quanto le leggi che noi produciamo nelle regioni, in Parlamento e in Europa migliorano la qualità della vita dei cittadini. Ma tutto ciò ci aiuta a non fare abbassare sia l'assemblea di oggi che l'incontro di domani, a non fare mai abbassare l'attenzione sull'Aquila, su tutti i paesi del cratere del sisma e sulla necessità di non dimenticare mai quello che è accaduto decenni fa.